Non ho niente di importante da dirti. Non fa niente. Solo che... So che sei da queste parti. Sto dando una mano a Patrick a organizzarsi. Mi sembra che se la stia cavando bene, eh? Considerando... Credo di sì, sì. Forse non lo sai, ma mi sono... sempre tenuta in contatto con Joe. Lo so, non sapevo. E che per me era strano non vedere Patrick. Ok, non lo sapevo. Ma puoi vederlo se vuoi. Possiamo pranzare insieme? Noi, vuoi dire io e te? Sì.